ok bene allora benvenuti questo è il nostro primo webinar come come variation e io sono emanuele moscato e con noi abbiamo anche corrado che siamo perché abbiamo fatto questa co diciamo sponsorizzazione copresenza anche per un altro meetup che scrama già il milano e quindi magari lascio anche la parola a corrado per dare anche lui il benvenuto sì io non voglio rubare tempo ai nostri amati speaker saluto tutti vi ringrazio per aver partecipato perché visto che siete qui state partecipando unica cosa che vi segnalo per chi non ci conosce noi siamo scrama già il milano siamo una community di agilisti basata forse possiamo intuirlo dal nome nel centro della lombardia siamo anche diciamo conosciuti con l'acronimo sem che appunto sono le iniziali siamo una community nata nel 2018 quindi pre pandemia e siamo quasi 900 membri che partecipano abbastanza attivamente agli eventi abbiamo avuto 200 speaker pierpaolo che qua collegato con noi oggi ma anche manuele come appunto diceva e noi siamo sponsorizzati sia da agile alliance che da scrum alliance quindi partecipando ai nostri eventi per chi è interessato si guadagnano le education unit di scrum alliance che sono utili per la per il rinnovo della certificazione anche sono essenziali a dire per il rinnovo della certificazione quindi ogni evento dipende dalla lunghezza da diritto a uno o due punti di certificazione cerchiamo di avere una cadenza abbastanza costante mensile dipende molto dagli speaker comunque è già online il l'evento di marzo dove avremo andrea provaglio che è un agilista della prima ora abbastanza noto come speaker all'interno di conferenze nazionali e internazionali e quindi sono aperte le registrazioni ho visto che abbiamo già una quarantina di iscritti quindi se volete unirvi alla nostra community io poi metterò per chi non ha in chat e link vari siamo anche presenti su linkedin ho parlato troppo emanuele scusate no va benissimo ci mancherebbe allora ci tengo a presentare anche soprattutto diciamo la persona che che stasera ci parlerà di complessità che camillo sperzani che insieme a me diciamo ha fondato variation e col quale collaboriamo e lavoriamo assieme da da parecchio tempo eh scusate ammetto anche qualcuno e lui è un trainer un coach si occupa di pnl ma soprattutto si occupa di sistemi complessi quindi è uno studioso di sistemi complessi questo diciamo aiuterà nella discussione di di oggi non non rubo altro tempo a camillo e quindi cedo la parola e buon meet up a tutti bene grazie lele grazie anche a corrado e vabbè per me è un po strano essere in mezzo a tanti voi che sono agilisti e di questo ambiente io non sono un agilista anche se conosco abbastanza bene il modello già il che mi interessa molto e ma fondamentalmente io mi occupo di studio della complessità ok e allora quando parliamo di complessità non stiamo parlando di un concetto accademico stiamo parlando di qualche cosa che si sta investendo tutti in modo radicale ok e quando anni fa parlavo di sistemica con i clienti soprattutto organizzativi vedevo delle nuvole di punti interrogativi che partivano dalla fronte di questi signori di solito il discorso cadeva nel nulla adesso per me è un tempo bellissimo perché finalmente quando parlo di sistemica di complessità vedo invece che gli occhi spesso brillano di interesse e non era mai successo prima quindi per me questi tempi che per qualcuno sono difficili sono tempi invece molto molto stimolanti stasera parleremo di complessità e vedremo di parlarne in un modo che sia il più possibile comprensibile per tutti io immagino che all'interno di un pubblico come il vostro ci saranno persone che già sanno qualcosa di complessità altre forse che ne hanno sentito parlare poco e niente io cercherò di tenere un profilo medio qualche cosa insomma che più o meno dovrebbe essere comprensibile per tutti anche se magari questo ha scapito di un certo approfondimento di certi termini tecnici ma se volete fare domande potete farle direttamente con la chat io chiederò spesso allele se ci sono domande e vedremo un po se è possibile anche rispondere direttamente anche per chiarimenti e cose del genere bene direi che possiamo cominciare a condividere le slide allora ok questo seminario si chiama appunto surfare la complessità è una metafora quella della complessità e del surf che secondo me è molto azzeccato perché esprime molto bene quale può essere l'altro atteggiamento rispetto alla complessità prendete nota del fatto che chi fa surf si diverte ma non cerca di trovare dei sistemi di controllo del cavallone perché sa che sarebbe impossibile e si divertirebbe poco e questo tipo di atteggiamento come vedremo è molto consigliabile anche quando si affronta la complessità che cosa è questa complessità intanto quello che vedete a sinistra questa figura strana è un attrattore in particolare l'attrattore di lawrence un meteorologo e l'attrattore è una simulazione grafica dei possibili stati di equilibrio di un sistema complesso sostanzialmente è la resa grafica di tutti gli stati che un sistema può esprimere e sono delle figure in realtà n dimensionali e con la computer grafica vengono ridotti a due e già ci dicono una cosa che sistemi complessi sono molto complessi ma non sono informi non sono casini il caos è un'altra cosa ok diciamo che la complessità è uno stato delle cose che è caratterizzato da alcune cose intanto da imprevedibilità se avete presente le previsioni del tempo capite di cosa sto parlando ci si può avvicinare a capire qualche cosa ma su scale ridotte di tempo o di spazio quindi fondamentalmente un sistema complesso un contesto complesso è contrassegnato dalla imprevedibilità un'altra cosa che contrassegna un sistema un contesto complesso è la non scomponibilità cioè mentre una macchina qualsiasi può essere scomposta per capire come funziona e voi potete supponiamo cambiare il sistema d'accensione lasciando inalterato il resto in un sistema complesso questo non può succedere se voi in un sistema complesso sezionate gli elementi li mettete da parte il sistema non non sarà più quello di prima una volta che lo rimontate per usare una terminologia un po cruda se smontate una lavatrice la rimontate la lavatrice uguale a prima se prendete un gatto lo smontate lo rimontate il gatto non sarà più quello di prima generatività cosa significa che un sistema complesso può generare delle proprietà e delle caratteristiche che non hanno o hanno che non hanno niente o hanno poco a che fare con gli elementi che compongono il sistema se pensate ad esempio la qualità di gioco di una squadra non è la somma della bravura dei calciatori degli altri dei membri della squadra se prendiamo la competitività di un'organizzazione non è la somma della competitività di chi ci collabora e così via diciamo che i sistemi complessi hanno questa caratteristica di generare delle caratteristiche delle qualità o dei difetti che non sono assolutamente ascrivibili a nessun componente di questo sistema e un'altra caratteristica è l'auto organizzazione tutti questi sistemi complessi sono caratterizzati dal fatto che non solo hanno dei punti di equilibrio tendono a durare ma addirittura riescono anche ad auto organizzarsi in particolare già dalla fine del secolo scorso John Holland studia i sistemi di attivi complessi e esempi sono gli organismi viventi ma anche le società le organizzazioni le culture che hanno questa caratteristica di auto organizzarsi e quindi diventare sempre più complessi e capace di fronteggiare contesti sempre più complessi o e questo è un primo bagno nella nella difficile mondo nel difficile mondo della complessità da dove origina questa complessità e da interazioni non lineare ricorsive tra sistemi loro componenti questa questo grafico qui è la una mappa sistemica di come funziona una rivista fondamentalmente quindi con i vari comparti la rete di relazioni che sono fra i vari reparti e le funzioni di questa di questa rivista e come notate non assomiglia per niente a normalità gamma di flusso e men che meno a un organigramma e quello che potete notare però è che molto spesso l'output di un sottosistema diventa input gli altri sistemi che a loro volta sono poi a in cui auto diventano input del sistema di partenza un casino cioè quello che succede è che la logica lineare e sequenziale a chi siamo abituati che quella caratteristica dell'action plan dei progetti eccetera qui va a ramengo non può funzionare e un altro aspetto è capire ecco la complessità quanto è frequente anche questo è un argomento una domanda interessante perché diciamo che la complessità è la natura generale dei fenomeni i fenomeni con i quali abbiamo a che fare nella vita nel lavoro eccetera sono fenomeni complessi solo che fino a poco tempo fa non ce ne siamo mai accorti e poi abbiamo negato le evidenze fino allo stremo ancora oggi anche in economia e nelle scienze organizzative si usano ancora modelli lineari come se la complessità fosse relegata a casi molto particolari mentre invece non è fatto così voi capite che quello che aumenta la complessità di un sistema di è fondamentalmente date più che dai pezzi del sistema da come questi pezzi sono connessi se voi pensate che ora viviamo in un mondo iper connesso un mondo dove quello che accade Hong Kong arriva istantaneamente in tutte le parti del mondo capite che viviamo in un mondo che è diventato negli ultimi anni negli ultimi decadi estremamente complesso e quindi non è più possibile far finta di vivere in un osi dove la complessità non entra perché oggi lavorare fare impresa produrre significa immediatamente misurarsi con la complessità come uscire da questa complessità ecco non se ne esce perché questo è il mondo cioè il mondo è diventato complesso noi ci viviamo e tutto quello che facciamo lo facciamo in un ambiente in un contesto complesso e quindi non se ne esce dobbiamo abituarci a a vivere in un contesto dominato dalla complessità e questo guardate particolarmente penoso per noi perché a dire il vero non siamo stati progettati per considerare delle cose complesse magari complicate ma non complesse ora tanto diciamo che una cosa complicata è diversa da una cosa complessa una cosa complicata è una cosa con molti aspetti da analizzare molti molti aspetti da considerare va analizzata la vista nel va vista proprio va dissenzionata e capita una macchina molto complicata uno shuttle qualcosa così invece la complessità è un'altra cosa viene dal latino complexus che vuol dire hanno dato assieme attorcigliato assieme per cui studiare un ambiente un fenomeno un oggetto complesso ci impedisce di fare quello che faremo di solito cioè smontarlo pezzo per pezzo e vedere come è composto perché smontandolo perdiamo la complessità e quindi sistema cessa di esistere allora la nostra mente non è strutturata per affrontare questo tipo di fenomeno una volta si pensava che la mente nostra mente fosse come una lavagna bianca no che man mano che cresciamo viene così riempita di dati e noi diventiamo sempre più colti intelligenti oggi le neuroscienze hanno dimostrato che non è affatto così perché quello che vediamo quello che salta fuori che noi nasciamo già in qualche modo preimpostati e nasciamo con una mente già con delle importazioni di default e queste importazioni di default sono poi li filtri le strutture con cui noi fin da bambini cominciamo a conoscere il mondo e organizzare il senso e il significato ok e quello che salta fuori che la nostra mente è strutturata per concepire il mondo come una catena di causa effetto lineari e quindi facciamo fatica a concepire la complessità e anche a interagire con essa diciamo che far per poter fare questa cosa di comprendere la complessità interagire con essa è necessario un bel allenamento la nostra mente può essere molto flessibile molto d'utile può imparare cose nuove però sta di fatto che la complessità non è qualcosa che si può afferrare istantaneamente infatti quello che accade di solito anche quando la si spiega è che le persone poi ci fanno domande strane domande del tipo di tipo di questa per esempio come governarla come si governa la complessità beh la cattiva notizia è che la complessità è possibile da governare però ce n'è una buona è possibile interagirsi utilmente se ne comprendi però le regole pensare di governare controllare dominare la complessità vuol dire partire col piede sbagliato la complessità è qualcosa che non non è non è in qualche modo non è pensabile di essere di essere iscritta dentro a un framework di controllo e quando ci si prova accadono inevitabilmente dei disastri nella storia ci sono diversi disastri famosi dovuti al fatto che si cerca di governare la complessità con regole semplici lineari c'erano bene un esempio ma anche i come dire come è stato come è stato gestito il clima fino adesso sulla terra e la circolarità delle risorse fino adesso ancora non si è riusciti a confronteggiare queste parti di complessità con delle regole adeguate e vediamo un po qualche cosa su queste regole ma prima chiedo allele se ci sono domande fino a qui ci sono domande nella chat non ce ne sono però possiamo approfittare per vedere se qualcuno vuole chiedere qualcosa c'è qualche chiarimento che quindi se volete c'è Matteo Carella che alza la mano sì posso certo vai Matteo ok accendo anche magari l'altra camera allora no più che altro diciamo era una considerazione più che una domanda perché l'assunzione iniziale diciamo mi suona poco nel senso che hai parlato del fatto che la nostra mente è strutturata poco per avere a che fare con la complessità con questo diciamo tipo di fenomeno però su questo diciamo non mi trovo molto d'accordo perché ad esempio la miscelazione concettuale che è un modo per riconoscere schemi e pattern nel mondo e nell'ambiente che ci circonda è proprio un segno di come il nostro cervello sia proprio si sia evoluto per avere a che fare con questa complessità e poi hai parlato anche di impostazioni filtri e strutture di default però queste impostazioni questi filtri e queste strutture di default possono essere cambiate man mano che facciamo esperienza di complessità l'epigenetica ad esempio ce lo insegna e se avessimo diciamo una visione del mondo tipicamente lineare in termini caso effetto non saremmo stati in grado di scoprire cose come ad esempio la funzione d'onda di una particella quantistica queste diciamo quindi erano un po' le mie perplessità ok relativi alla distinzione iniziale grazie della votazione Matteo così però di essere più chiaro quando dico che noi siamo nasciamo già con delle impostazioni di default orientate al così a pensare il mondo in termini di sequenze lineare di caso effetto non sto dicendo che questo poi ci impedisce di concepire la complessità in diversi ambiti e anche di allenarci no a capire da sempre meglio ma sto dicendo appunto che non nasciamo già impostati in questo modo e c'è un motivo fra l'altro sempre parlato di epigenetica no cioè il fatto che il periodo in cui il nostro cervello si è evoluto e il periodo fra l'altro in cui anche comparso la funzione del linguaggio è un periodo in cui l'essere umano aveva bisogno aveva bisogno di pensare in un certo modo per essere efficace ok noi per esempio nasciamo nasciamo già predisposti con una serie di schemi intuitivi che che col mondo attuale rischiano di non funzionare tanto ma il fatto è che quando noi ci siamo evoluti in essere umani la pensate com'era la nostra vita noi avremmo visto non so 150 persone in tutta la vita stavamo più o meno in un territorio dove i rischi le opportunità erano imprevedibili però erano conosciuti quando era fondamentalmente le decisioni da prendere erano sempre quelle non c'erano decisioni nuove da studiare e ovviamente la nostra mente si è evoluta e poi come dire fissata anche in modo epigenetico proprio su un ambiente di questo tipo ora non per dire che le funzioni intuitiva non serve più a niente anzi c'è tutto ci vorrebbe un altro webinar per parlarne ma per dire che noi per poter cambiare diciamo il piloto automatico con cui funzioniamo dobbiamo fare un certo sforzo perché altrimenti ci caschiamo dentro in continuazione ok grazie prego matteo e dunque ecco appunto faccia perplessa il concetto è che oggi come oggi serve un rewind del nostro pensiero automatico del lo chiamano pilota automatico no ad esempio i principali errori di pensiero che fioccano nella frontale alla complessità sono diversi il primo è ad esempio di frazionare e compartimentare le conoscenze lessevo qualche tempo fa una frase molto interessante sul mercato del lavoro nella complessità diceva oggi c'è bisogno di bravi generalisti cioè che un po uno simono cioè persone specializzate essere generaliste cos'è il generalismo e capacità non tanto di essere particolarmente profondi informati su un campo ristretto del sapere ma la capacità di capirne e maneggiarne un ambito piuttosto vasto in modo in modo da poter creare delle connessioni mentre invece automaticamente nella nostra cultura anche nel mercato del lavoro la figura dello specialista tradizionalmente più pagata di quella del generalista ok ma in un contesto complesso questo è un errore inoltre un altro errore di pensiero è di pensare in termini di azione anziché di interazione quando noi sempre in molte teorie della comunicazione ancora oggi si insegna tanto sono appunto mi occupo di comunicazione allora io comunico a una certa persona la quale persona comunica a me in realtà questo modo semplificatorio e è anche forviante di descrivere un'azione di comunicazione perché in realtà non è che uno comincia e l'altro risponde in me c'è subito un'interazione circolare tra persone anche nelle relazioni anche nei progetti nelle azioni di marketing in realtà quello che noi chiamiamo azione sono tutte interazioni con qualcuno che sta già facendo delle altre cose però pensando le cose in termini di azione rischiamo proprio di ricadere poi nel pensiero causale di causa effetto io faccio questo e la risposta è quella là mentre invece la sistemica insegna che tutte queste esiste invece un'altra cosa che la circolarità cioè tutto tutto interagisce e noi possiamo scomporre l'interazione in azioni ma solo a modo di modo astratto l'importante che quando facciamo questa scomposizione delle interazioni in azioni siamo consapevoli che stiamo facendo un'azione approssimativa che può servirci per certe cose ma non non è affatto descrittiva di come vanno davvero le cose e l'altra cosa un terrore di pensiero ricorrente è quello di pensare in termini statici e non di processo in realtà il mondo non è fatto di cose statiche ma è fatto di processi alcuni processi sono molto lenti e noi processi molto lenti definiamo come oggetti ma se ci pensiamo anche un mobile anche un'automobile anche un macigno visti su una scala di tempo sufficientemente lunga vi rendete conto che non sono oggetti ma processi punteggiati in un certo momento della resistenza e questo vizio di pensare in termini statici poi crea tutta una serie di oggetti anche astratti che ci imprigionano e ci ingannano perché non ne vediamo la natura processuale pensiamo ad esempio un termine come competitività come flessibilità come creatività questi questi concetti che vengono chiamati poi nominalizzazioni sono etichettature di processi cioè di cose di interazioni di relazioni che ci sono fra persone oggetti sistemi e noi invece pensiamo in termini statici quando diciamo qui occorre più creatività stiamo dicendo una frase che non vuol dire niente assolutamente perché è più interessante dire chi è che deve essere creativo e facendo cosa ma difficilmente queste cose vengono dette e l'altro errore di pensiero è considerare solo ciò che è misurabile cioè cosa significa solo che è misurabile significa che in un sistema lineare possiamo trascurare le quantità non misurabili perché vengono le quantità misurabili non misurabili un sistema lineare possono incrementare solo in termini lineari quindi se io ho un termine che vale lo 0,01 per cento potrà aumentare linearmente come se è rappresentato da una retta ma in un sistema non lineare come sono i sistemi complessi uno 0,01 per cento può capitare che abbia invece delle omete iperbolici e diventare molto importante quindi questo ci dice che nel sistema complesso non ci sono termini che possiamo trascurare perché non sono mai non sappiamo mai se sono davvero trascurabili e l'altra l'altro errore è credere che ambiguità e contraddizioni siano delle anomalie perché non si tema complesso il principio di non contraddizione aristotelico che sia non può essere non ha non vale più una cosa può essere a un momento e non ha il momento dopo e può anche essere un mezzo anno sono delle logiche appunto che ci dicono che a volte ci sono anche dei termini di mezzo quindi l'ambiguità e le contraddizioni non sono anomalie ma sono parti costitutive di un contesto complesso dobbiamo abituarci a conviverci ma non per dire che sono da ricercare ma comunque non come dire non sono necessariamente dei segnali che qualcosa sta funzionando male allora come dobbiamo pensare invece in un mondo interconnesso questa figura ovviamente tutti sapete chi è abbiamo festeggiato il darwin day poco tempo fa anche per esempio darwin è stato la sua teoria dell'evoluzione poi rivista perfezionata da altri pensatori da altri etologi eccetera però se vogliamo è un primo approccio alla complessità allora occorre imparare a connettere e contestualizzare le conoscenze ad esempio c'era una disciplina del secolo scorso subito dopo la guerra che aveva proprio questo obiettivo che era la cibernetica la cibernetica è stata proprio inaugurata e sviluppata da una serie di conferenze interdisciplinari a qui alle quali erano invitati i migliori pensatori di tutto il mondo quindi c'erano sociologhi c'erano fisici c'erano ingegneri c'erano matematici economisti che si confrontavano e hanno prodotto in ibridazione da cui sono nati molte intuizioni che stanno alla base anche della fisica moderna in particolare dell'informatica quindi connettere le conoscenze l'altro aspetto è di contestualizzare queste conoscenze cioè capire che certe conoscenze funzionano e hanno un senso solo in determinati contesti le conoscenze universali non riguardano il mondo fisico riguardano le regole della grammatica della matematica ma nel mondo nel mondo fisico nel mondo delle organizzazioni nel mondo delle persone le conoscenze certe conoscenze sono valide solo in certi momenti in certi contesti le best practice nella complessità non esistono più l'altro aspetto riconosce i limiti della conoscenza per quanto noi ci informiamo scopriamo cose nuove eccetera esiste un'area ancora non misurabile che resta al di fuori della nostra capacità di conoscere in particolare di conoscere ciò che non conosciamo ci sono molte cose che non conosciamo e addirittura molte cose che che addirittura non conosciamo di non conoscere e voi capite che quindi fondare delle certezze immutabili su una coscienza che è per sua natura intrinsecamente limitata ci fa correre dei rischi forti e ci consegna fondamentalmente all'ideologia e allo scientismo che non è scienza poi occorre sviluppare una certa capacità di afferrare l'essenziale cioè guardando un sistema complesso di capire che cos'è che conta di capire che cos'è che è importante notare perché altrimenti un sistema complesso talmente talmente tante sfaccettature che rischiamo la paralisi e quando si ha a che fare con la complessità non bisogna aspettare di aver capito tutto per muoversi perché altrimenti resteremo paralizzati quello che occorre fare è cominciare a muoversi interagire col sistema e vedere che feedback otteniamo come vedremo poi dopo ammettere le imperfezioni no la perfezione è possibile solo eh in un contesto statico quando un contesto è molto molto turbolento eh l'imperfezione è la norma naturalmente occorre che le imperfezioni abbiano degli standard accettabili quindi ma non pensare c'era uno psicologo sistemico Gianfranco Cecchin proprio che ha scritto un libro su questa che poi è una nevrosi molto bello intitolato idee perfette dove dimostra perché le idee perfette conducono alla rovina fondamentalmente quindi in un mondo interconnesso e complesso le imperfezioni fanno parte costante delle cose che facciamo e delle cose con cui ci interfacciamo e poi vincere il pilota automatico pilota automatico è quello che abbiamo visto prima no cioè stare in guardia stare in guardia perché se non stiamo in guardia il pilota automatico quello che pensa alle cose in modo gerarchico come sequenze di causa effetto come eh come dinamiche lineari scatta immediatamente e ci fa andare fuori strada ok ma prima di andare avanti ecco ma mi fermo un attimo anche qui perché abbiamo buttato lì dai concetti piuttosto eh tosti e quindi volevo capire dovevo sapere se ci sono domande su qualcuno di questi ok allora in chat no però eh è il momento giusto per farle ma da quello che dici insomma noi ci stiamo dovremmo semplificarci la vita insomma ehm beh sì perché la vita sì perché la vita ci pensa da solo a complicarsi quindi ok non è il caso che ci cimentiamo anche noi quindi quindi ho solo di una chiarezza adamantina oppure che non si è capito niente ma naturalmente preferirei la prima ipotesi delle due però come dicevi tu potrebbe essere un po' a un po' non a oppure una via di mezzo eh sì ciao Camillo Marco ciao Marco io ammetto che alcuni passaggi non li ho afferrati quindi ti chiedo semplicemente nei limiti del possibile e di come tu pensi di condurre questo se è possibile eh quando è possibile fare degli esempi e contestualizzare un po' i concetti quando e laddove lo ritieni possibile mi sarebbe utile certo vediamo un po' di fare qualche cosa grazie e allora aspetta che c'è Antonio che invece ha alzato la mano Antonio eh salve ehm io mi facevo questa domanda nel senso che vedevo quest'ultima slide in cui parla di ammettere le imperfezioni e di afferrare l'essenziale che mi sembra un po' in contrasto con quello che ha detto prima però perché afferrare l'essenziale è semplificare e ammettere le imperfezioni in qualche modo è comunque cioè afferrare l'essenziale ridurre ammettere le imperfezioni e semplificare e questi due modelli di ridurre e semplificare sono i modelli che lei ha detto più o meno errori del della gestione del modello interconnesso del modello complesso ora la slide di prima non la ricordo esattamente le parole però più o meno vediamola eh allora quando le dice frazionare pensare in termini di azione anziché interazione sì e in qualche modo lei sta eh riducendo un'interazione in azione e la sta semplificando con l'altro termine che ha detto diciamo questo questo è un errore tra gli errori e le cose buone però aspetto continuo ad ascoltare molto interessante tra l'altro il discorso però suscita qualche diciamo sì no ho detto quando pensavo in termini di azione anziché di interazione dicevo appunto che è un errore di pensiero nella complessità ok quindi mentre invece quando ecco fatto bene a punteggiare questa cosa perché quando dico afferrare l'essenziale non sto parlando di semplificare sto pensando eh quando eh in italiano quando diciamo afferrare l'essenziale sì mi rendo conto che è una frase che può suonare ambigua no come dire badare al sodo no mentre invece quando dico afferrare l'essenziale sto dicendo quel tipo di fenomeno percettivo che abbiamo quando ammiriamo un'opera d'arte non stiamo semplificando eh stiamo cogliendo l'essenza di questa opera d'arte no non ci soffermiamo in un primo momento sui particolari sulla tecnica del pittore o sui dettagli specifici ma afferriamo la ragione d'essere no e questo c'è questo fenomeno percettivo che è l'arte quindi quando dico afferrare l'essenziale mi sto eh eh riferendo a questo eh e anche nelle mette alle imperfezioni posso sempre fare il paragone con l'opera d'arte dove tutto sommato l'opera d'arte voi non le giudicate dalla perfezione dal realismo eh cioè sono elementi teneci che contano ma c'è qualcosa di più ci sono delle opere d'arte che sono ancora artistiche e ci danno forte emozione penso ad esempio eh la pittura del Trecento la pittura giottesca di Cimabue no quelle visibili nella basilica superiore di Assisi che ancora non conoscevano la prospettiva eppure ci danno ancora un'emozione fortissima quindi il concetto è proprio porta abituarsi a vedere l'insieme e coglierne il senso il senso riferito al contesto in cui lo stiamo percependo mentre invece come scusami pensavo avessi concluso? Sì no mentre invece fin dalla scuola dell'obbligo veniamo adestati invece a vedere i dettagli no pensando che poi dai dettagli si possa costruire il significato del tutto questo è l'approccio di Cartesio lui nel 1637 il discorso sul metodo diceva esattamente così no? Se io ho un problema cosa faccio? Lo scompongo in tutti i dettagli dice intanto dice premessa devo essere certo che quello che ho visto e percepito è proprio chiaro ed è quello lì devo avere l'assoluta certezza e oggi sappiamo che non si può avere uno. Due poi dice lo scompongo in tutti i dettagli possibili e vedo uno ad uno come sono fatti e questo ovviamente una volta li numero tutti li catalogo eccetera e questo mi dà la comprensione del tutto ok? Se voi avete a che fare con un team ed enumerate tutti i componenti del team descrivendo le loro caratteristiche enumerandoli e tutto e poi a questo punto voi del team non sapete ancora niente invece perché il team ripeto le qualità di un team la sua produttività la sua creatività non è la somma delle caratteristiche dei suoi componenti ma una proprietà emergente quindi voi per capire come funziona la qualità di un team di una squadra di una famiglia di un'organizzazione dovete sviluppare uno sguardo globale dove capite l'essenziale no? Quando si parla ad esempio del clima organizzativo aspetta aspetta non andare non ti faccio andare così oltre perché se ci sono altre domande magari vediamo se sono legate ti blocco un attimo c'era Marina con la mano alzata? Sì Marina ti vedo anche ciao Camillo e in realtà sì io volevo fare una domanda proprio su afferrare l'essenziale no? perché mi sembra una una capacità molto complessa appunto no? Mentre le altre che hai elencato insomma penso di riuscire a così a contestualizzare a dire ma ci si potrebbe arrivare su questa mi incute un po' di meraviglia nel senso mi chiedo come come ci si allena ad afferrare l'essenziale perché è una cosa molto complessa molto complessa. Sì Marina provo a risponderti perché la risposta sarebbe complessa però in generale siamo capaci di ad esempio sei capaci di vedere la bellezza di un paesaggio. Sì scusa però volevo aggiungere questo quando hai fatto il riferimento all'opera d'arte no? Sì. E va bene è l'operazione effettivamente che facciamo però è un'operazione altamente soggettiva. Tu affari l'essenziale ma non c'è un essenziale universale che l'artista voleva trasmettere. Tu affari l'essenziale per te in quel momento. Poi stai dicendo che quindi la bellezza e l'arte sono percezioni soggettive non condivise. Ognuno ha la sua percezione di bellezza poi possiamo essere d'accordo che la venere i botticelli piaccia a tutti no? Però non è lo stesso per la pittura contemporanea no? Ok. Quindi penso che ecco mi piaceva insomma lo so che è un discorso complesso però mi piaceva capire visto che poi parliamo di organizzazioni come lo traduciamo. Ok allora sono d'accordo con te che queste percezioni sono percezioni soggettive no? In gran parte. Poi possiamo discutere se fanno parte di una cultura invece o se fanno e quindi sono intersoggettive a questo punto no? Ma non esitano percezioni oggettive già lo sappiamo. quando ecco quindi noi abbiamo questa capacità soggettivo intersoggettiva di percepire l'arte il bello l'armonia o la bruttezza anche no? Quindi l'essenziale no? Quello che dobbiamo allenare non è tanto la capacità quindi di afferrare l'essenziale ma di metterla fuori gioco quando ci confrontiamo con un oggetto invece che ha a che fare con il lavoro la produttività per cui siamo allenati invece a scartare questa capacità di esferare l'essenziale e tuffarsi subito nel pensiero analitico che fa parte del pilota automatico appunto no? E' un po' come quello che fanno quello che fanno certi critici no? Cinematografici o musicali che per descrivere cioè vanno subito ci parlano appunto non dell'opera in sé ma di come l'hanno vista dei dettagli se se l'uso del se l'uso della 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 cinepresa è stato fatto in un certo modo se il regista tutte cose grege che se ma non ci danno un'idea del fenomeno complesso che era la percezione dell'essenziale ok? Quindi diciamo noi siamo perfettamente attrezzati per rafferare l'essenziale perché oltretutto è una funzione intuitiva quindi non ragionata ok? Quindi come ti dicevo e come ripeto dobbiamo abituarci però a mettere fuori gioco invece il pensiero analitico e razionale che spolpa le cose dei pezzettini quando ci confrontiamo anche con altre situazioni. Ok c'è anche una mano alzata di Matteo. Sì. Scusate io ho sempre un po' di complessità al riguardo. Allora è appena detto che siamo perfettamente attrezzati per afferrare l'essenziale. Se fossimo in grado di afferrare l'essenziale non si parlerebbe di complessità e c'è un fenomeno interessante al riguardo che si chiama inattentional blindness che è stato verificato nel laboratorio. C'è un libro al riguardo che si chiama The Invisible Gorilla. Comunque se mettiamo un gruppo di radiologi a scansionare delle radiografie è stato visto che questi radiologi non sono stati in grado di notare il gorilla messo di proposito nelle radiografie ben 20 volte più grande di un comune nodulo al seno. Quindi questi bias, questi diciamo modi di filtrare il mondo non ci aiutano a afferrare l'essenziale. Anzi, tutt'altro. Se siamo in una buona giornata possiamo scannerizzare al massimo tra il 3 e il 5% delle informazioni che ci passano davanti. Diversamente se siamo delle persone che vengono dal linguaggio basato sui radiogrammi riusciamo a scannerizzare fino al 10%, ma non di più. Quindi la mia obiezione in questo caso è non siamo assolutamente attrezzati per afferrare l'essenziale, perché se fossimo attrezzati per afferrare l'essenziale non avremmo avuto situazioni come quella dell'11 settembre. Tant'è vero che dai report della CIA è emerso che quello che si sono persi è la capacità appunto di connettere i puntini. La capacità di connettere? I puntini insieme. Ah, ok. afferrare, diciamo, loro lo chiamavano noise, scusami, dot o una background of noise, cioè i puntini su un background di rumore. Quindi questa è un po', diciamo, la mia professità riguardo. Ok, sì. Forse non mi sarò spiegato bene, Matteo. Quando dico l'essenziale non intendo dire il più importante o la maggior parte dell'informazione. conosco bene il fenomeno dell'unintentional blindness, è stato testato più volte, conosco bene anche il discorso dei bias cognitivi, dei fili percettivi, ma quando dico l'essenziale non significa, l'essenziale non è che fai con la quantità di dati che possiamo assimilare ed elaborare, ma l'essenziale significa la capacità di afferrare quell'elemento che in quel certo contesto fa la differenza e caratterizza il senso e il significato di quel momento preciso. Questo è l'essenziale. E potrebbe essere anche l'uno per mille di tutto quello che è possibile percepire. Volevo dire questo. Ok, senti, c'è invece una frase sulla chat di Michele che ci dice, saper cogliere l'ironia, le parole contraddicono l'intenzione. Anche in questo caso è un elemento di afferrare l'essenziale, l'ironia, cioè quando una persona riesce a capire, non so, il doppio senso, l'essere tra le righe, eccetera, no? Poi ricordiamoci anche, non so, la teoria degli atti linguistici, no? Di Shirley Austin, no? Che dice appunto che l'atto linguistico ha a che fare, oltre all'aspetto locutorio, ma anche il perlocutorio e l'illocutorio. Cioè dicendo una certa frase vuoi che la gente capisca una certa cosa, ok? Mi viene in mente quando al megaprocesso della mafia Michele Greco, condannato nel gastro, gli venne chiesto se aveva qualcosa da dire e lui rispose al giudice, no signor giudice, io auguro la migliore vita, una lunga vita a lei e tutta la sua famiglia e il giudice diventa un pallido, no? Quindi aveva capito qual era l'aspetto illocutorio dell'augurio di Michele Greco. Ma qui appunto capire l'essenziale, ma per capire l'essenziale occorrebbe la capacità di vedere il sistema nel suo contesto e quindi capire, afferrare qual è il senso generale della cosa e so che conti quel momento lì. Quando parlavo di opera d'arte o parlavo di, infatti prima per esempio Marina giustamente ha citato l'arte moderna, no? Anch'io ci sono dei pittori d'arte moderna che francamente non supporto. Cito Mondrian per esempio, di cui ho annunciato una mostra che non andrò mai a vedere. Forse è un mio limite, non so, però non è tanto un concetto di soggettività, che tutto quello che è arte deve essere capito. Ma io, voglio dire, sono in grado per esempio, se ascolto la nona sinfonia di Beethoven, di apprezzarlo su due livelli. Uno è il livello dell'essenziale, quindi l'aspetto emotivo, cioè perché è bella la nona sinfonia. E poi, se voglio, posso anche andare a pensare come è composta, come sono organizzati gli strumenti, le parti delle varie sezioni orchestrali, ma sono due cose differenti. Però, come dire, quando uno va a mangiare in un ristorante, ha due modalità di stare a tavola, no? Una è quella del critico gastronomico e l'altra di quello che gli piace mangiare e apprezzo il cibo, ok? Ora, bisogna capire che cos'è l'essenziale in quel momento lì. Non ho detto che sia lo stesso per tutti e due, ma è comunque un essenziale, perché se afferri una cosa ne perdi l'altra, capisci? Quindi tu, quando hai che fare con un sistema complesso, devi capire quel sistema, quel groviglio lì, quel gomitolo che ti hai davanti in quel momento, in quel contesto lì, qual è l'aspetto fondamentale, qual è la cosa importante che devi capire in quel momento lì? E questo è l'essenziale. Ok, se non ci sono altre domande, magari mandiamo avanti. Grazie. Appunto, il pilota automatico, il pensiero analitico. Il pensiero analitico è quello che ci impedisce di cogliere l'essenziale, perché vediamo le parti e non l'insieme. Un altro aspetto importante è che dobbiamo abituarci ad allenare la ridondanza cognitiva. Cosa è la ridondanza cognitiva? È allenare la capacità di pensare oltre i soliti schemi che usiamo per stare al mondo. Allora, a noi non piace fare fatiche neanche mentalmente. Generalmente, quando nella nostra vita, nel lavoro, impariamo certi schemi cognitivi e possiamo applicarli a gran parte delle situazioni, ci accontentiamo di quelli. Invece, per capire la complessità, occorre sforzarsi ad allenare la ridondanza cognitiva. Quindi, ad esempio, abituarsi a considerare una situazione da una molteplicità di punti di vista. Conosco persone che nella vita hanno vissuto tutte le situazioni vedendole da un unico punto di vista il loro. Ma questo non è l'unico punto di vista possibile. La nostra mente ha questa capacità di dislocarsi. Per esempio, l'empatia ci fa vedere, ci fa vivere e sentire una situazione dal punto di vista di un'altra persona. E il pensiero strategico ci fa vedere una situazione da un punto di vista terzo, che è al di sopra delle parti, e così via. Allora, noi questa cosa dobbiamo cominciare ad applicarla a diversi ambiti della vita. Al pensiero, ad esempio, ideologico, politico, religioso, economico, affettivo. E abituarci a considerare la situazione. Non per arrivare a sposarne una. Questo è l'importante. Non per dire, ah, ma allora è giusta quella là. No. Ma per capire che una situazione presenta diversi punti di vista. E tutti hanno il diritto di convivere. Anche in modo contraddittorio. Perché la contraddittorietà, dicevamo anche prima, fa parte della complessità. Aprire i modelli mentali. Cioè rendersi... Adesso ti legge un libro piuttosto interessante di Adam Grant, per esempio. Che è questo psicologo organizzativo americano. Che ha scritto questo libro molto carino sul rethinking. Cioè sul ripensamento. Che non vuol dire come in italiano, cioè, ho avuto un ripensamento, quindi mi sono pentito. Ma proprio vuol dire abituarsi a prendere in considerazione le proprie opinioni, quelle che diamo per scontate, e riaprirle, rivederle. Dice Adam Grant che quello che conta, per essere persone che siamo, non sono le opinioni che abbiamo, ma i valori. Quindi le opinioni, le credenze contestualizzate, certe cose. Noi dobbiamo dare... dobbiamo prendere l'abitudine di rivederle periodicamente e smontarle, rimontarle e sottentuerle con altre credenze, con altre convinzioni. E questo ci aiuta a vedere se quello che pensiamo è veramente quello che sarebbe opportuno e utile pensare in quella situazione. Coltivare il generalismo. Ecco, io apprezzo molto persone, per esempio, degli ingegneri. Per esempio, una persona come Lele, Emanuele Moscato, che è anche mio amico, oltre che collega. Io è una persona che ammiro perché lui è un coltivatore di generalismo. Mi confronto spesso con lui. Lui ha interessi vastissimi che vanno dalla musica alla barcavela, all'abbigliamento, alla cucina. Cioè, ok, il generalismo è la salute dell'anima e della mente e ci mette in contatto con tanti modelli, con tante situazioni, tanti ambiti. E questo, come dire, allena la nostra duttilità mentale, la nostra capacità di essere efficaci in contesti diversi. Ho dovuto... grazie intanto, però ho dovuto lottare contro questa... per continuare ad avere il mio generalismo. Il mio approccio generalista è perché non era particolarmente apprezzato, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Certo. È una di quelle cose che dici, ma come? Ma non riesce a specializzarsi su qualcosa, insomma. Quindi è... Sì, ma è stato anche un po' adesso. Il pensiero specialistico appartiene a un'altra epoca. Cioè, è qualcosa di sdato, qualcosa di inattuale e che ci porta fuori strada. Diciamo che dovrebbero pagare meno lo specialista del generalista, in generale, no? Perché il generalista... cioè, diciamo, lo specialista ha un ruolo utile perché analizza le parti. Ma quello capace di metterle insieme, di dargli senso, di farle funzionare, il generalista non è lo specialista. Quindi... E l'altro aspetto di allenamento è immaginare le realtà potenziali. Cioè, siccome i sistemi complessi sono imprevedibili, quello che può accadere entro un certo lasso di tempo non è una possibilità unica e neanche due. Ma dobbiamo immaginare, proprio allenarsi ad immaginare delle realtà che potrebbero concretizzarsi. E, come dire, immaginare come potrebbero interagire con il nostro mondo e quale tipo di atteggiamento, di strategie mettere in atto in queste realtà potenziali. Mentre invece, tipicamente, quando si fanno dei piani d'azione e dei progetti, questo non ci va praticamente mai. Ci dà per scontato che il contesto che fa da sfondo al nostro piano d'azione resti più o meno costante e che quindi la sequenzialità delle operazioni da fare resti quella che abbiamo immaginato. Ma sapete benissimo che, infatti, non va quasi mai così. Andiamo avanti con la ridondanza cognitiva. Un altro elemento importante è allenarsi ad agire per piccoli passi. Perché piccoli passi? E perché più il passo diventa piccolo e più possiamo dare per assodato che possiamo assumere che il contesto resti invariato quando facciamo dei piccoli passi. E evitiamo di prenderci dei rischi dovuti alla complessità. Un piccolo passo vi darà un piccolo feedback, ma questo piccolo feedback vi aiuterà a migliorare il secondo piccolo passo e così via. Poi c'è l'apertura delle possibilità e torsi dall'inazione. Allora, noi siamo abituati a pensare, a osservare le situazioni in termini di opportunità e di rischi. Allora, in un sistema complesso è molto più utile focalizzarsi sulle opportunità che sui rischi, agendo per piccoli passi. Quindi, a piccoli passi e apertura alle opportunità e non ai rischi. Togliersi dall'inazione. Cioè, noi teniamo a pensare che per entrare in azione occorre avere un piano ben strutturato e definito nei dettagli. Ma abbiamo visto che in un sistema complesso avercelo è praticamente impossibile. Quindi l'importante è cominciare a muoversi, raccogliere dei feedback. Quando facciamo delle diagnosi di un sistema, di una situazione, dare per scontato che la diagnosi non è la descrizione del sistema o della situazione, ma è un modello di partenza per cominciare proprio a muoversi. Dovemmo essere pronti a cambiare opinione al primo passo. Ecco, affrontare le proprie credenze. Come abbiamo detto prima, il discorso del rethinking di Adam Grant è molto importante. Cioè, la capacità di vedere in fase le nostre credenze e capire che sono credenze, non sono aspetti della realtà, sono opinioni. Quindi possiamo cambiarle quando ci accorgiamo che non sono più funzionali, come invece magari sono stati un tempo. Questo è ovvio. Ci abbiamo certe credenze, perché queste credenze in un certo periodo hanno funzionato, ma non è detto che siano le migliori da avere anche adesso. E poi accettare la molteplicità. Allora, accettare la molteplicità a volte può non essere facile, specialmente in certi ambiti come quelli ideologici, religiosi e politici. Però questa è la situazione. Altrimenti dobbiamo decidere che il mondo è sbagliato, che certe persone sono sbagliate. Ma nel mondo delle persone sono sbagliate e non sono neanche giusti. Sono semplicemente quelli che sono. E noi ci mettiamo in una cornice di lucidità mentale, così facendo, che ci consente di essere efficaci. Perché se noi agiamo nel contesto in cui stiamo vivendo, pensando che ci sono degli errori insopportabili, dei buchi da sistemare, delle cose inaccettabili, stiamo già partendo col piede sbagliato. E aprirsi le domande. Ecco, tutti queste cose sono collegate tra loro, no? Questi sei punti. Perché comunque questi sei punti, ecco, e c'è un settimo punto, passare dalla logica delle cose impossibili a quella delle cose impossibili. Cioè noi dobbiamo, siamo abituati a pensare, come dire, di vedere se ci sono delle cose impossibili. Mentre invece quando dobbiamo passare in azione dobbiamo ragionare sulle piccole possibilità. Allenarci a cercare le piccole possibilità. Quindi questi sette punti sono tutti collegati tra di loro. Diciamo che scegliere un punto di questi sette in qualche modo si porta dietro tutti gli altri. E, diciamo, queste sette, queste regole costituiscono di sé un sistema. Un sistema di distruzioni, di credenze, di possibilità di azione che insieme configurano un approccio diverso al mondo in cui ci stiamo muovendo. Anche qui mi fermerei un attimo per sentire se ci sono altre domande. Ok. Allora, per chi vuole intervenire, è stato chiarissimo questa volta. Ah, perché vuol dire che l'altra volta invece no, eh? No, non c'è questa dicotomia. Ok. Bene. Ok, allora direi che possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Ecco, l'altro aspetto interessante, proprio tenendo conto di tutti questi aspetti, è che nel muoversi dobbiamo capire intanto se siamo in un contesto dinamico normale, quindi dove la complessità possiamo considerarla trascurabile o comunque, quindi, su una scala temporale o dimensionale limitata, oppure in un contesto turbolento. Ok. La cosa interessante è che in un contesto dinamico, quindi, in un... Vediamo, ecco, in un contesto dinamico, le cose possono essere semplici o complicate. Vedete, invece, in un contesto turbolento, le cose, i progetti, possono essere o complessi o caotici. Vediamo cosa significa. Allora, l'aspetto interessante è che in un contesto dinamico, quindi lineare, diciamo, le strategie sono guidate dallo stato finale. Sono i contesti dinamici classici, lineari, sono quelli in cui noi facciamo, leggiamo per obiettivi. Quindi, degli obiettivi, quindi dei risultati che vogliamo ottenere. In un contesto semplice, molto facile, perché implementiamo il piano d'azione, monitoriamo tutto qua. In un contesto complicato, dobbiamo prima analizzare bene, poi pianificare, poi implementare. E in un caso come nell'altro, i risultati arrivano. Quando il contesto è turbolento, le cose cambiano, perché non possiamo più lavorare per obiettivi. Dobbiamo partire considerando i vincoli dello stato iniziale del contesto. Perché è uno stato, e qui spero di riuscire ad essere chiaro, perché è dallo stato iniziale? Perché, mentre in un contesto dinamico normale, lo stato iniziale ci è noto, perché abbiamo le scoordinate, in un contesto turbolento, lo stato iniziale non ci è mai completamente noto. Ci sono sempre delle cose incerte, dei buchi di informazione, dei lack di misurazioni, che possono anche essere piccoli, ma che possono nel tempo influire moltissimo. Per esempio, ci sono delle cose negli stati iniziali dei contesti turbolenti, che diventano evidenti solo a un certo punto del contesto turbolento. Vediamo ad esempio, per fare un esempio banale, le dinamiche delle economie finanziarie, della borsa. Questo è un contesto tipicamente turbolento, perché gli stati iniziali di un contesto turbolento possono essere una piccola informazione in una certa parte del sistema, in una parte remota, che in quel momento non stiamo vedendo, e che però finirà poi per condizionare tutto il resto del funzionamento. E quindi è proprio questo che ci fa dire che agire per obiettivi e risultati in un contesto come questo rischia di essere forbiante e anche pericoloso. Invece cosa si fa? Si agisce per agendo su scopi finali, su finalità che vogliamo raggiungere e ci adattiamo momento per momento. Quindi non c'è un piano d'azione prefissato, c'è una finalità ai cui vogliamo arrivare e un adattamento continuo al contesto che cambia. Quindi se il contesto è complesso, quindi agisci, apprendi, adatta. Quindi agisco, ne arrivano dei feedback. Questi feedback mi servono per apprendere altre cose, adatto il mio modo di agire, apprendo di nuovo, adatto e così via, fino a che riesco ad arrivare da dove volevo. In un concetto, in un complesso caotico, dove non sono neanche visibili dei pattern, delle sequenze dotate di senso, qui non si può fare molto, agisci e adatta. Quindi proprio colpo su colpo. Un contesto caotico, per esempio, è, supponiamo, una partita di tennis, dove voi non potete intravedere dei pattern perché l'avversario li cambia continuamente. Voi rispondete, adattate e cercate di prendere la guida del processo, ma non potete pianificare un bel niente. In un concetto complesso, la pianificazione la potete ipotizzare perché notate delle sequenze che tendono a ripetersi, nella borsa, per esempio, nella meteorologia, ma non sapete mai se poi si ripeteranno ancora nello stesso modo. E quindi ogni volta, ogni giro che fate, dovete apprendere regole nuove e metterle in pratica. Quindi, fondamentalmente, due strategie differenti. Quale ordinaria, che è nella colonna sinistra, per decenni, per, diciamo, per secoli, se volete, è stata considerata come la strategia per eccellenza. Una strategia degli scacchi, per esempio, no? Una strategia di marketing. Erano tutte queste strategie qua, semplici oppure complicate. Ma quello che vediamo nel mondo di adesso è che le strategie che servono veramente non sono queste, ma sono quelle altre, quelle complesse o caotiche, in cui occorre tenere conto non tanto di dove volete arrivare, ma di quali vincoli iniziati avete per cominciare a muovervi. Quindi, vincoli iniziali, strategia complessa o caotica, punto che traguardate come riferimento, come farlo, che vi guida. Qui mi fermo un attimo. Sì, c'era Alberto che chiedeva qualche esempio, anche se ne hai fatto qualcuno, magari, non so, Alberto, sono chiari? Qualche esempio, diciamo, sul contesto dinamico penso che non servono, no? No, grazie. No, sul contesto dinamico è chiaro, sul contesto turbolento hai fatto due esempi sulla borsa, no? Sì. quindi la borsa è un contesto turbolento. A me è colpito soprattutto la parte che, il fatto che non vedo sulla parte destra la pianificazione, in realtà è accennato che si può fare un po' di pianificazione, però va continuamente adattata. Esatto, proprio questo è il punto, no? Perché abbiamo detto piccoli passi, perché una pianificazione si chiama, il tipico modo di azire si chiama feedback operate in un contesto turbolento, no? Quindi, quindi qui l'abilità fondamentale in un contesto turbolento è quella di cogliere, collocare, dar senso ai feedback che ci arrivano, ok? E non ostinarci invece a ignorare come, o considerare i trascurabili come magari si può fare più in un contesto dinamico. Chiaro. E la differenza, cioè, un esempio che fa capire la differenza tra un contesto complesso, un contesto caotico? Allora, sì, allora, l'ho detto, ma non mi rendo conto che è stato un po' veloce. Allora, un contesto, allora, un contesto complicato ha delle regole che si ripetono. Voi sapete che ogni volta che mettete un certo input in un certo punto di questo sistema complicato arriverà un certo output che sapete in anticipo qual è, no? Ad esempio, se prendete un motore di un'auto, per esempio, e sapete che dato che il motore è fatto in quel modo, se gli date un certo quantitativo di energia, il motore risponderà in un certo modo. Come dire, la previsione è sempre azzeccata. In un sistema complesso, invece, è un sistema in cui non avete la certezza che dati certi input otterrete certi output. Ad esempio, ho fatto l'esempio di un sistema meteorologico. Voi sapete che le previsioni del tempo si basano fondamentalmente sulla capacità di riconoscere dei pattern, cioè delle sequenze, che sono probabilistiche. Voi sapete che, ad esempio, in certe stagioni dell'anno è più facile che si presentino certi insieme di correnti, di condizioni di pressione, di atmosfera, in certi modi. Sapete che ricorrono e quindi voi fate delle mezze previsioni basandovi su quello. Ma quando poi ci siete, vi rendete conto che magari quest'anno invece andavi in modo differente. Allora cosa fate? Rivedete il vostro modo di dare significato a queste cose e vi attrezzate per essere più precisi la volta dopo. Ma la volta dopo non sapete ancora se sarete precisi. La differenza è proprio invece nel caotico e non avete nessuna sequenza che si ripete. Un sistema caotico è quando siete in mezzo ad un uragano e non capite niente. Cioè siete portati dal vento e dovete soltanto trovare il modo migliore per ripararvi. Ok? Ho però fatto un esempio più carino è quello della partita non so se avete presente il ping pong per esempio. Questo è un esempio di sistema caotico perché voi non potete riconoscere nessuna sequenza che si ripete. Potete studiare il vostro avversario ma il vostro avversario adatta alla sua sequenza in base a quello che fate voi e quindi non potete mai contare che potete prevedere cosa farà l'avversario. Dovete essere sul pezzo a rispondere istantaneamente adattarvi ad ogni battuta che fa l'avversario e agire di conseguenza. Questo è un esempio piccolo di sistema caotico. Un sistema caotico è anche una crisi di borsa però. Una crisi di borsa è qualche cosa che succede dal controllo. Qualche cosa in cui la cosa è si salvi chi può e infatti qualcuno non si salva. Grazie. Scusa Camillo vorrei chiederti di spendere due parole rispetto a queste due velocissime riflessioni. Sì. Se l'attributo questi quattro attributi dal complicato al cootico sono necessariamente dei contesti o se la percezione che noi abbiamo dei contesti che li fanno diventare tali. Prima così riflessione e la seconda è quanto le competenze che noi abbiamo fanno sì che i diversi contesti possano cambiare di denominazione e quindi quanto noi dominiamo attraverso le competenze e quindi il delta che noi abbiamo possiamo più o meno avere una percezione differente dei quattro attributi che insomma classicamente si danno. Grazie. Bene Marco ti rispondo intanto dicendo una cosa tu hai detto una frase interessante capire se il sistema o il contesto è proprio così lui o se è la nostra percezione ho capito bene allora tu hai fatto te lo dico sorridendo perché è ovvio un errore classico del pensiero cartesiano cioè hai differenziato il soggetto dal sistema qui c'è il sistema che è una cosa e qui c'è il soggetto che lo percepisce mentre invece sono un'unica cosa capisci quindi è chiaro che ogni sistema ogni contesto esiste solo attraverso la nostra percezione ma la nostra percezione a sua volta è fortemente orientata dal contesto in cui ha luogo quindi la prima domanda come dire diciamo la possiamo in qualche modo derubricare dicendo quello che c'è è un'esperienza di un osservatore più o meno esperto più o meno capace ma quello che importa è che questo osservatore come dire ha la possibilità dal suo punto di vista di vedere che è un sistema complicato semplice complesso o caotico e questo poi la seconda cosa è certo naturalmente ci sono operatori persone più più abili più schillate più abituate a lavorare con sistemi complessi e altre poco ma specialmente questo capita perché in certe situazioni specialmente nel mondo organizzativo certi approcci che sono ormai ideologici sono duri a morire tu vai a dire a uno che ti dice fammi un bel piano d'azione da qui a tre mesi per aumentare le vendite del 5% ok e gli dici no guarda perché il contesto è turbolento e quindi dobbiamo arrangiarsi voglio ancora vedere l'eroe che dice una cosa del genere direttore generale quindi dominare dominare un contesto turbolento è impossibile dominare un contesto dinamico diciamo di sì però noi sappiamo che un contesto dinamico quindi complicato semplice è dinamico perché facciamo un'approssimazione è un po' come dire per un geometra che fa una villetta la terra è piatta cioè non si piove comunque noi sappiamo che dare rotonda ma per fare una villetta un condominio possiamo far finta che sia piatta ma in realtà non l'è allora l'essenza della realtà che ci circonda è complessa ci sono delle sottosacche degli ambiti delle osi in cui guardandosi attorno possiamo dire ma sì possiamo in questo caso far finta che sia solo complicata tutto qua ti ho risposto o devo dire altre cose mi hai risposto e allo stesso tempo ho bisogno di masticare le tue risposte sì quindi grazie grazie a te Marco bene in conclusione in conclusione vi faccio vedere appunto una a volte ci sono a volte vedete come dire certe cose vengono capite più da persone che non c'entrano niente con i contesti organizzativi psicologici che da detti al lavoro e qui c'è una vignetta che mi sembra particolarmente pregnante per come riassunto e anche come invito quindi io penso che se siete persone che partecipano a un webinar di questo tipo siete persone in realtà attente come dire attenti ad assumere informazioni ad essere performanti precise eccetera e quindi questo invito lo posso rivolgere a persone come voi non c'è altre che sarebbero veramente sgangherate per voi essere sgangherati è difficile però quello l'esortazione è appunto uscire dal perfezionismo e cominciare ad agire perché le informazioni per migliorare e per essere performanti davvero si possono avere non studiando la situazione ma interagendomi e con questo ho concluso il mio intervento e vi ringrazio delle vostre domande che sono state veramente interessanti e anche dalla vostra attenzione grazie Camillo magari c'è anche qualche altra domanda quindi adesso abbiamo un po' di tempo per poter diciamo aprire anche la conversazione se volete se avete qualche cosa da chiedere o qualche commento da fare insomma c'è una manina di Antonio sì vai Antonio ciao di nuovo nell'ultima slide si parlava di c'era una bellissima parolina nel reparto di destra quello complesso che era adatta 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 la tua azione adatta la tua azione sia nel caso complesso che nel caso caotico sì che non ricordo male sì sì e allora adatta però sottintende una regola generale a me ricorda una per esempio in qualche modo un apprendimento automatico in cui tu fondamentalmente cerchi di minimizzare una certa funzione e quindi derivi un comportamento generale ok è un sistema complesso sicuramente ok però adatta che vuol dire in questo contesto adattare vuol dire semplicemente fare un'ipotesi e costruire un'azione sulla base di queste ipotesi e quali sono queste ipotesi poi l'adatta cioè contestualizzato ogni volta adatti ma cosa ti spinge ad adattare ci si deve essere una regola generale o un 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 qualche cosa che ti fa adattare appunto ma seguendo un obiettivo oppure una direzione o un'idea o un pensiero allora userò una metafora marina visto che c'è qui Emanuele quando tu vuoi fare la traversata dell'Atlantico con una barca a vela giusto allora tu sai benissimo dove vorresti arrivare ok e come dire calcolando un po' la statistica e il regime dei venti di quella stagione ti fai un'idea approssimativa di quanti chilometri fai in un giorno e dove sai alla fine di questo giorno ok mi spiego fino a qui sì ok domanda alla fine di quel giorno lì tu hai una regola generale precisa per sapere come devi modificare la rotta della tua barca io sì nel senso anche se non me l'hai descritto io sarei vicino alla costa indipendentemente da tutto non ho capito per quanto possibile posso intervenire diciamo avendola fatta diciamo tu ti puoi adattare non in maniera diciamo con un'impostazione generale ma cercando di capire dove sei rispetto a dove immaginavi di essere e questo è il primo è il primo punto che potresti provare a prevederlo ma non è detto che tu ci riesca e poi dovrai adattarti diciamo prendendo in considerazione le condizioni meteo che ci sono in quel momento che ci saranno in quel momento quindi magari avrai della corrente che non avevi previsto avrai un vento che non hai previsto né in intensità né in direzione e quindi la tua azione di adattamento sarà diciamo determinata dalle condizioni in cui ti stai trovando in cui ti stai trovando in quel momento che non sono predeterminate perché non le puoi conoscere puoi solo immaginarle e sperare che siano quelle che hai immaginato tu non so se questo ti aiuta Antonio il mio dubbio un po' rimane nel senso che l'adattamento per me è continuo io l'ho inteso come continuo e quindi io cerco di verificare se la mia posizione attuale è vicina oppure uguale a quella che io avevo previsto ok ma come faccio ad adattarmi cioè quali sono le azioni che io interpreto per avvicinarmi a quell'azione dipende dalle condizioni ecco perché dipende dalle condizioni non lo puoi stabilire prima come fai a saperlo se se io non c'ho vento per esempio non c'è posso decidere che per adattarmi accende il motore però non lo so prima oltretutto posso farlo se sono in una traversata diciamo non competitiva se sono in regata non lo potrò fare quindi devo stare lì ad aspettare ti faccio un esempio c'è non è la traversata ma c'è una una regata che si chiama che la la Mille de Seer Race fa il giro della della Sicilia di altre diciamo isole tra cui Malta e passano dallo stretto di Messina che conosco bene perché io sono di là dove c'è un'intensa corrente a secondo del momento quindi ci sono state imbarcazioni che si sono trovate nello stretto di Messina con una bonaccia e quindi sono andate indietro le barche e altre barche che erano passate prima quindi con la corrente nella direzione opposta e con vento e quindi sono addirittura state favorite in quel passaggio tu non lo puoi puoi immaginare che succedano determinate cose ma la certezza non ce l'avrai mai quindi quelli che si sono trovati con la corrente contro e senza vento sono state costretti ad andare indietro cercando di non andare contro la costa o altri ostacoli questo non era assolutamente prevedibile cioè certo una certa prevedibilità c'era ma e quindi il loro adattamento è stato completamente diverso dalle barche che li hanno preceduti o anche da quelle che sono passate dopo c'è anche Corrado con la mano alzata da te sì prego sì volevo volevo condividere una mia esperienza professionale che sto proprio vivendo negli ultimi 6-8 mesi praticamente da settembre nell'azienda dove lavoro noi stiamo introducendo Kinevin che è appunto il framework che Matteo ha accennato e la cosa sta avendo dopo diversi mesi ma sta avendo un enorme impatto sul business perché il mercato dove lavoriamo noi che è quello dei servizi finanziari è un mercato intrinsecamente complesso ci sono diversi livelli di complessità e il fatto che i leaders soprattutto la componente business sia resa conto che diciamo sistemi complessi vanno affrontati in modo diverso da sistemi complicati sta cambiando completamente faccio un esempio la gestione del budgeting e come vengono diciamo finanziate le diverse iniziative noi siamo appunto in questo processo di definizione di un nuovo modello e questo giusto per dire che sembrano cose molto astratte queste qui ma in realtà fanno parte della realtà di alcune aziende la mia è una delle più importanti aziende qua a Londra nel settore e fanno parte della come dire delle conversazioni quotidiane con la leadership oggi ci è voluto un po' di tempo devo dire la verità però questo ha portato proprio la conversazione a un livello completamente diverso già con la leadership in Inghilterra immagino sì io lavoro a Londra però diciamo questa cosa sta prendendo fortemente piede e qua a Londra io vivo non in una realtà che è famosa per come dire la propensione all'innovazione mettiamola così cioè qua ci sono realtà anche nello stesso settore finanziario che come dire loro fanno dei monthly meeting spostando su Kinevin le iniziative per capire in quale dei domini stanno e quindi definire come affrontare cioè io ho assistito proprio a riunioni in cui si affrontano su Kinevin le discussioni del banco questo giusto interessante c'era una mano alzata di Jonathan sei in muto la Francia è più detta negli ultimi due anni chiedo scusa innanzitutto buonasera a tutti mi presento brevemente sono un ingegnere che lavora in un'azienda metalmeccanica e ho avuto in passato un'esperienza di lavoro usando il framework Scrum per lo sviluppo di hardware meccanico sostanzialmente in particolare per lo sviluppo di un nuovo prodotto la domanda che ho io è questa ho notato che tante volte ragionando per sprint e praticamente navigando continuamente a vista c'è il rischio di rallentare alcune parti del lavoro o meglio che il lavoro venga percepito come lento in alcuni casi perché la gente non vuole aspettare lo sprint successivo non vuole non vuole adottare alcune delle cerimonie non vuole adoperarsi utilizzando il framework quello che chiedo è voi che magari l'avete visto più di me come avete provato a combattere questi comportamenti comportamenti di chi dei membri del team soprattutto se nuovi introdotti al framework ah ok grazie c'è qualche scrummista che vuole rispondere qui mettiamo un attimo magari la parola alla platea ma io posso dire la mia ma la dico per ultimo vai si anche io volevo volevo mi tenevo per io non sono uno scrummista e quindi mi tiro fuori anche io volevo lasciare spazio magari a qualche intervento da parte di qualcun altro se no allora nel limite della mia conoscenza posso dire che forse scrum e i framework di scrum non fa per questo team perché la base di avere una percezione giusta di framework è capire i benefici che ogni componente di questo framework può dare a team cioè si vede che la mancanza di magari coaching di formazione sul proprio scrum si vede nel team per cui non vengono percepite i benefici di lavorare per sprint perché alla fine tutto il discorso che abbiamo fatto nella complessità e stasera penso che si manifesta nel framework di escarone perché cerchiamo di affrontare un argomento complesso con piccoli passi che si chiamano sprint quindi se questa cosa non viene percepito da team vuol dire che forse questo framework non va bene per questo team oppure il lavoro che bisogna fare è talmente conosciuto e abbiamo a disposizione anche le tecniche quindi non ha bisogno di framework di scrum forse ha bisogno di monitoraggio ho capito il senso sì nel caso specifico forse la soluzione era proprio quella di dire se viene talmente tanto rifiutato a un certo punto vuol dire che è il team che non è adatto al framework e non a vicinanza probabilmente grazie mille ok c'era una mano di Michele vediamo se poi se resta tempo magari possiamo approfondire Michele sì dunque io mi aggancio a quanto ha detto prima Human spero di pronunciare bene ma faccio un altro ragionamento quello che comunque qualunque sia la metodologia anche non agile una metodologia funziona soltanto se viene applicata con coerenza dall'inizio alla fine perché se qualcuno comincia a mettere in dubbio ma perché facciamo questo facciamo quell'altro siamo in un ambiente poco disciplinato questo a prescindere ripeto dall'adottare particolarmente Scrum poi per quanto Scrum in particolare non posso che condividere quanto già già detto però ripeto il rischio che ci sia il bastian contrario di turno che ci sia la persona non allineata esiste esiste sempre quindi deve esistere una figura più o meno direttiva più o meno facilitatrice che cerca di guidare queste differenti anime queste differenti sensibilità in modo da andare se vogliamo dirla così come come una una forza che va in una direzione quindi una volta si faceva il diagramma il parallelogramma delle forze si mettevano i vari vettori si cercava di farli andare bene o male in modo tale che andassero tutte verso una direzione tenendo conto della complessità che quando le forze sono tante che la risultante andasse nella direzione di sostanza almeno dalle parti esatto beh sicuramente avere una figura di facilitazione non tanto direttiva ma quanto di facilitazione aiuta i team quindi quello sicuramente il tema di far comprendere al team il motivo per cui si sta utilizzando scrum può essere anche questo molto utile nel senso che se io non riesco a percepire quali sono i vantaggi che mi sta dando utilizzare scrum piuttosto che un approccio waterfall è probabilmente o perché non ho una diciamo corretta percezione del mercato del contesto in cui mi sto trovando e quindi immagino che il progetto si possa comunque fare un waterfall senza nessun tipo di rischio o di problema e quindi mi lavorerei su questo tipo di allineamento se dovessi lavorare con questo team perché sicuramente la parte del basta incontrario c'è sempre e anzi può essere diciamo uno stimolo per il punto è far comprendere a quel team che realmente ha bisogno di scrum ammesso che sia veramente così aggiungo perché non è detto che tutti i team che utilizzano scrum hanno sempre realmente bisogno di fare quel progetto in scrum insomma sappiamo anche tutti che in questo momento diciamo scrum e agile sono degli approcci e delle modalità e delle parole che sono usate ed abusate quindi in alcuni casi sicuramente è necessario utilizzare un approccio di questo tipo proprio perché non ho le certezze e la possibilità di capire in che direzione andare se non sperimentando in altri casi probabilmente riuscirei a farlo anche senza grossi problemi o senza aumentare eccessivamente il rischio non so se ho risposto Corrado non so se volevi aggiungere qualcosa tu su questo ma diciamo nulla di critico sull'argomento c'è una domanda di Simona in coda nella chat che sarebbe interessante tirare dentro sì sulla parte del budget sì allora a me viene da dire che diciamo il discorso del budget è più riferito al valore dell'iniziativa e alla strategicità dell'iniziativa piuttosto che al fatto che sia complesso o complicata questa è però la mia la mia risposta non so se magari tu ne hai un'altra l'unica cosa che vi dico è abbiamo finito il tempo per noi non c'è problema a continuare qualche minuto quindi a sforare di qualche minuto era solo per intanto ringraziarvi tutti ringraziare chi poi si deve staccare eccetera però volentieri l'avevo vista la domanda quindi è estremamente interessante lascio un po' a te Corrado magari se hai un'idea differente insomma qua non c'è risposta perché qui si tratta di cose molto sperimentali vi do qualche riferimento così potete googlare esiste una strategia che si chiama beyond budgeting diciamo il creatore di questa strategia è uno svedese che si chiama Bjorn non me lo ricordo perché non mi ricordo i nomi troppo difficili da pronunciare non fanno parte della mia però lì non fa differenza tra complesso complicato perché diciamo presuppone che sia tutto complesso no 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 allora il beyond budgeting è effettivamente un modo per estendere la gestione tradizionale del budget non per per sostituirla diciamo però detto questo posso fare un esempio che è quello che diciamo stiamo stiamo affrontando noi quando un progetto è in una in un dominio complesso viene diciamo fa parte della caratteristica del budgeting un rilascio veloce cioè nel senso un'iniziativa di due anni non può essere in un ambito complesso faccio degli esempi molto pratici perché ci capitano diciamo quando facciamo queste riunioni e quindi può essere che un progetto richieda per la sua completezza due anni per essere fatto perché quando si lancia per dire un nuovo prodotto di una carta di credito faccio un esempio normalmente c'è da nuove piattaforme da integrare eccetera quindi non stiamo parlando di progetti di mesi o di settimane stiamo parlando di progetti di almeno 8-10 mesi ecco quando c'è un progetto di questa estensione il budget viene dato solo alla luce di una serie di rilasci intermedi con feedback misure su dati di mercato quindi non su ipotesi di dati di mercato ma su misure effettive che possono essere anche gruppi di studio non necessariamente consumatori mentre invece se un prodotto sta diciamo viene disegnato e sta nell'ambito complicato perché comunque non si tratta di prodotti semplici nell'ambito complicato questa caratteristica non è data non è richiesta ma è richiesto la giustificazione di quali sono i livelli di confidenza e di certezza su cui si poggia la stima che il dominio sia complicato e non complesso quindi esiste proprio una diversa strategia di allocare i soldi sui progetti complessi quindi è molto diciamo non potrei dire raro però c'è una diversa attenzione sui progetti a lungo termine in ambito complesso rispetto a quella che c'era dico cinque anni fa faccio un esempio e vorrei citare anche qui un caso che secondo me è molto interessante che diciamo dove lavoro io io diciamo quando è scoppiata la pandemia lavoravo come coach proprio nei prestiti io non so se ve lo ricordate il mercato finanziario tra febbraio ed aprile a Londra il mercato dei prestiti ha perso il 75% del mercato tra marzo e fine aprile cioè vuol dire che quello che prima si vendeva a 100 cioè si vendeva a 100 milioni di sterline in due mesi è diventato 20 milioni di sterline quindi immaginatevi ebbene in un periodo di contrazione come questo la banca dove lavoro io ha fatto più 25% di quota di mercato questo in termini di soldi in valore assoluto non è tantissimo perché stiamo parlando comunque di una contrazione del 75% però questo ha fatto sì che quando poi il mercato ha ripreso diciamo il competitor di riferimento era la nostra banca e quindi non ha significato in termini immediati più soldi tanti più soldi ma nel medio termine ha avuto una posizione prevenente e questo dal nostro business è stato interpretato alla luce del fatto che noi siamo stati i primi a recepire le direttive nuove della banca d'Inghilterra relativamente alle nuove modalità di gestione del rischio relativo ai prestiti cioè quindi noi in modo agile abbiamo risposto a una richiesta del mercato più velocemente dei competitor e l'abbiamo fatto proprio alla luce di questo modo di gestire il budget cioè noi abbiamo allocato un budget con l'impegno di non rilasciare qualcosa in sei mesi di rilasciare qualcosa in un mese e mezzo ok adesso Corrado mi sa che adesso però dobbiamo dobbiamo stringere volevamo ringraziare tutti e dirvi anche che il nostro prossimo webinar sarà il 7 di aprile e che ci concentreremo sulla parte di decision making unconventional decision making visto che avendo analizzato il sistema il contesto in cui ci troviamo sicuramente questo contesto determina un po' anche le modalità e l'approccio con cui prenderemo le decisioni vi avevo messo il link alla registrazione ve lo rimetto ma comunque riceverete poi le varie informazioni per chi ha chiesto le slide le metteremo sul sito con il link sia sull'evento linkedin che sull'evento meetup e niente io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione anche per questi minuti in più che ci avete dedicato e ci vediamo alla prossima al prossimo meetup anche Corrado ha messo i vari link al ai meetup diciamo di Sam e quindi diciamo in un'ottica di collaborazione quindi ci vedremo di qua e di là grazie mille Camillo grazie a tutti grazie Camillo ciao ciao a tutti Grazie.